Il volley dopo la Serie festeggia anche coach Daniele Santarelli di Foligno, che completa un fantastico poker di successi alla guida della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che ha vinto tutte e quattro le competizioni disputate. Nella Super Final di Champions League d'Antali in Turchia, le Venete hanno battuto Allianz Milano conquistando anche il titolo di campionese d'Europa. Per Santarelli si tratta della seconda Champions League in carriera che va aggiunta ai sei scudetti, cinque edizioni della Coppa Italia, sei supercoppe italiane, due campionati mondiali per club, senza dimenticare i trionfi da allenatore della Serbia e della Turchia. Oramai Daniele Santarelli è diventato un'icona da rappresentare con orgoglio per l'Umbria della pallavolo nazionale e mondiale.